Dato che siamo ancora a giugno e dato che il 12 giugno è stato il secondo compleanno del canale ho deciso di fare un giveaway, quindi ho chiesto a Roland di mandarmi qualcosa da potervi regalare e così è stato, il problema è che Roland mi ha regalato una roba fighissima quindi io sono stra contento di potervela regalare, adesso vi faccio vedere cos'è molti di voi hanno già visto solo il pacco, purtroppo su Instagram ho fatto vedere solo il pacco ma non ho ancora svelato nulla, proprio niente di niente, perché è una sorpresa è uno strumento, una metà tra uno strumento normale e uno strumento non normale ma comunque adesso lo vedete, prendo il pacco così andiamo ad aprirlo e vi spiego tutto quanto vi spiego cosa c'è qua dentro, vi spiego come funziona, vi spiego soprattutto come partecipare al giveaway perché è semplicissimo, bisogna solo fare due o tre cose, sono solo due o tre passaggi da fare e poi siete dentro al giveaway, ma direi di andare ad aprire questo bellissimo pacchetto qui taglierino, dov'è? Ah qui c'è un'altra carta ebbene sì ragazzi, RT Mic della Roland ragazzi questo qua è uno strumento, è un trigger, un microfono, è un po' di tutto in realtà e l'avete già visto, l'avete già visto in un video che ho fatto per Roland, strumentimusicali.net quindi vi lascio comunque tutto qui sotto per andare a vederlo, per fare un giro così almeno capite bene come funziona questo strumento qua che ovviamente oggi non vi posso far sentire anche perché in realtà questo non è mio, questo è di qualcuno di voi perché oggi qualcuno di voi vincerà un RT Mic, ma ve lo apro, anche se non è mio io lo apro lo stesso così almeno ve lo faccio vedere che figata ragazzi, che figata, c'è lo scotch ma io lo apro lo stesso eccolo qui ragazzi, questo qua è l'RT Mic, questo non pratica come funziona? mettiamo un po' a posto, è un trigger e microfono insieme, come potete vedere qui ha un trigger che appunto va a posizionarsi principalmente sul rullante e può dare un suono elettronico al vostro rullante ovviamente, ci sono un po' di figate per questa cosa qua, per prima cosa non ha bisogno di centralina cioè tutti i suoni sono già al proprio interno e li possiamo modificare andando a cliccare questo pulsante qui, che poi quando c'è la batteria si accende eccetera si illumina e qui ci sono dei numerini dove possiamo andare a cambiare il suono elettronico che vogliamo, possiamo andare a mettere del riverbero, delle percussioni, ci sono scritte comunque tutte quante le varie possibilità qui la figata appunto è che avendo già tutti i suoni all'interno noi basta che con un jack, con un cavo usciamo di qua, andiamo direttamente al nostro mixer e siamo a posto, esce già il suono perfettamente già fatto in più la figata ancora più grossa è che non ha solo il trigger questo ma questo qua che vedete nella parte davanti è un microfono quindi oltre a farvi da trigger e quindi mettervi un suono elettronico vi microfona anche il vostro rullante e quindi avendo un microfono più trigger poi possiamo andare a miscelare tramite queste due rotelline qua il nostro suono elettronico e il nostro suono acustico, è veramente una figata pazzesca andate a vederlo nel video che c'è qui sotto come vi ho detto prima perché abbiamo la possibilità di avere un suono sia acustico sia elettronico e di miscelarlo come vogliamo io sono veramente contento che roland mi abbia mandato questo prodotto qua e tra l'altro voglio ringraziare roland di avermi mandato questo prodotto perché secondo me è uno dei più innovativi nel senso io non avevo mai visto una cosa del genere quindi questo è non so se vi devo ancora dire qualcosa direi di no ovviamente per saperne di più di questo prodotto io vi lascio sempre in descrizione due cose super importanti che vi consiglio di fare per prima cosa quella di andare a seguire roland italia vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione su instagram perché lì ci sono veramente tante cose tra le storie tra le immagini che posto nei video eccetera ci sono sempre un po di novità e tutto e in più la cosa fighissima e che soprattutto è fighissima perché è gratuita sempre qui sotto in descrizione vi lascio il manuale di roland per ibridare la propria batteria quindi è un manuale completo è un pdf abbastanza lungo dove vi spiega tutto quello che serve per far diventare la batteria acustica in elettronica o comunque per far capire come fare andare d'accordo elettronico e acustico insieme eccetera eccetera ci sono tante cose molto interessanti quindi vi lascio tutto qui sotto in descrizione tranquilli ma adesso andiamo a capire come riuscire ad iscriversi a questo giveaway è molto molto semplice i passaggi sono pochissimi e allora per prima cosa dovete mettere mi piace a questo video e iscrivervi a questo canale quindi semplicissimo basta che cliccate sul pollice e schiacciate su iscriviti se ancora non siete iscritti ovviamente se siete iscritti questo passaggio l'avete già fatto quindi non lo dovete più fare in più dovete qui sotto scrivere un commento ed è importantissimo il commento anche perché io oltre poi a controllare tutti gli altri passaggi se avete fatto tutti gli altri passaggi andrò ad estrarre il vincitore proprio tramite i commenti quindi io vi chiederei di scrivere un solo commento in questo video non scrivete mille commenti non serve scrivetene uno solo perché è più semplice anche per me in generale per tutto giveaway dove mi scrivete per prima cosa qual è il vostro groove preferito scrivetemi il mio groove preferito è quello della canzone dei boh e la canzone si chiama boh quello che proprio vi piace tantissimo suonare quello che vi ha fatto incominciare a suonare la batteria quello che non lo so scrivetemi il vostro groove preferito e se non avete un groove preferito inventatevelo ovviamente potete anche scrivere quello che volete nei commenti questo è solo una cosa per dire ok vediamo quali sono i groove preferiti dei miei iscritti e in più una cosa importantissima è scrivere sempre nello stesso commento il nickname che avete sul sito gas tube mo vi spiego per poter essere iscritti e per riuscire a facilitare anche questo giveaway adesso poi vi spiego il perché è importante che siate iscritti sul sito gas tube.it e non live.gas tube.it quello è un'altra roba per le live quello seguitelo ma per altre cose per questo giveaway invece è importante iscriversi a gas tube.it dopo esservi iscritti andate a cercare come vi sto facendo vedere dal sito il vostro nickname e proprio quel nickname andrete a metterlo all'interno del vostro commento quindi dopo avermi iscritto il vostro groove preferito lasciate uno spazio sotto e anzi andate a capo che sarebbe anche meglio e mi scrivete nickname e poi il vostro nickname di gas tube.it questo perché perché almeno tramite gas tube si semplifica tutto per quanto riguarda il giveaway per prima cosa avrò la vostra mail tramite il sito quindi vi potrò contattare e poi avrò anche già il vostro indirizzo per quanto riguarda la spedizione quindi non dovrò stare a rompervi le scatole mandandovi una mail dicendovi dammi l'indirizzo eccetera 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 per quanto riguarda l'estrazione invece sarà il 5 luglio alle 14 in live qui su youtube quindi passeremo mezz'ora 40 minuti insieme così estrarremo il vincitore faremo festa poi mi potete fare un po' di domande io vi rispondo a qualsiasi domanda sia su questa reti mix sia a qualsiasi domanda in realtà parliamo un po dai stiamo un pochettino insieme ci facciamo appunto 40 minuti un'ora torno insieme e così almeno facciamo festa vincitore festeggiamo il secondo anno del canale e basta quindi io ho detto questo credo di avervi detto tutto quindi vi ricordo un attimino ancora tutti i vari passaggi per vincere questo fantastico rt mix di casa roland allora dovete iscrivervi al canale e mettere mi piace a questo video commentare questo video dicendomi qualsiasi cosa io vi ho detto se vi va di dirmi il vostro groove preferito quello che proprio vi piace di più e sotto sempre però comunque nello stesso commento scrivermi il vostro nickname del sito gas tube andate sul sito gas tube se non vi siete ancora iscritti al sitogastube.it vi iscrivete e poi andate ad inserire il vostro nickname all'interno del commento così che almeno io possa riuscire a contattarvi al volo terza cosa l'estrazione l'estrazione sarà il 5 luglio alle 14 in punto mi raccomando io penso di poterla finire veramente qua quindi questo video non vi devo dire niente cioè avete già fatto tutto avete commentato avete messo mi piace avete fatto l'iscrizione finita lì direi che quindi vi posso salutare noi ci vediamo il 5 luglio mi raccomando qui in live su youtube alle 14 se poi non riuscite a vedere la live non vi preoccupate perché ovviamente poi rimane su youtube quindi tranquilli se non riuscite a vedere la live poi la potete vedere dopo la live non sparisce quindi se avete vinto non dovete essere per forza in live se siete live è una figata perché festeggiamo subito però se no non vi preoccupate non c'è problema e poi lo vedete dopo e festeggiate festeggiamo feste vabbè dopo detto questo io credo di potervi salutare qua spero che questo rtmx questo regalo per voi vi sia piaciuto e noi quindi ci vediamo poi all'estruzione ciao ragazzi qui Grazie.